oh no eravamo da roxy che tra l'altro il mio cane si chiama pure roxy che ha due marone oh no oh no eravamo da voffi eravamo da voffi era pesante si pesa circa 25 kg il cane più o meno che paura dio sacripante che cazzo di paura benvenuta ora torce dove dove non è il dlc ah ma va a cagare ragazzi non è il dlc ah ok ecco perché ecco perché non ho capito vai a cagare ma la diciamo dove cazzo sono ma vaffanculo vabbè adesso mettiamo il dlc non lo stavo capendo che cazzo che ricoglionito dio sacro gioca ruin gioca ruin tra l'altro punto esclamativo vovot scaricate world of tank dal link lì e supportate il canale e il re papera auguri malattino buon compleanno non è l'altro punto esclamativo non è l'altro punto esclamativo credo verbo è l'altro punto non è l'altro punto esclamativo non è l'altro punto Non puoi scegliere da me! Gregori! Non! Gregori, riusci! Roxy è dopo te! Gregori, sei là? Cassie, sono in bene. Ho trovato un posto per scegliere. Mi raccoglie le nodi nel salone per seguire Roxy. Scegliere, lei è vicino! Ma non è Gregori mai! Ho trovato dove nascondere. Ho trovato dove andare a fare il culo, dai! Sei un cazzaro, Gregori! Stai mentendo! Sei un mentitore! Vedete che mi levo la maschera, giusto? Perché tra un po' sennò arriva scassacazzo di coniglio. Il problema, ragazzi, è che io non riesco a capire dove sono i nodi. Ragazzi, dove sono i nodi qua? Ragazzi, scusate, sono impazzito, io... No, no... Devo andare dove è nata Roxy? Ma come, scusa, ha detto che per aprire devo disattivare... Lei ha detto che per entrare lì bisogna disattivare i nodi, eh? Io tolgo e metto, giusto, per un attimo... Io tolgo e metto giusto per un attimo... Non posso fare il mazzo di nuovo! Questo è un problema 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 eh raga eh raga eh 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 dove l'aiuto? guarda come ha fatto a rubre la c'è c***o il coglione è lì il cilindro è un merda eh ragazzi l'ho visto adesso il cilindro di merda ho visto adesso vabbè tanto è una cosa abbastanza facile il cilindro è lì non ti sei spaventato no perché quando ti attacca lei quando ti attacca quando ti attaccano così lei si leva la maschera quindi il jumpscare è chiamato per cui è scuro ma è sotto il cilindro questa area è tutta le limiti non posso farla ancora la maschera Allora! Scusate un attimo, scusate un attimo, andiamo con ordine, andiamo con ordine, io la torretta l'ho disattivata, se mi son rimesso la maschera, era di nuovo, Marcus grazie per il ventuno, andiamo con ordine. Facciamo le cose con calma, non devi rimetterla, e non posso non rimetterla, non posso disattivare i nodi, come faccio? Mi sposto in avanti e la rimetto, e non posso disattivare i nodi. Qua è sicuramente bagato il gioco, e qua è sicuramente possibile, perché, però, è programmato di merda, così, che cazzo vuol dire? Eh, devo stare vicino, che cazzo significa? Eh, devo andare oltre la tenta, ho capito, ma se ha chiuso il nodo, cioè... Speriamo qua il tendone, e poi però me la devo rimettere, sicuramente. Speriamo qua il tendone, e poi? Non posso andare giù di qua? No. Non posso passare di qua? Io però devo andare di là. Evidentemente no. Non, eh... No, però questo di qua, non è vero. Ah, ok. Il problema è che la puttana è liberamente? La troia non c'è per finta, questo è il problema. Quella puttana di chicca è qua, veramente, questo è il problema. No, non è vero. 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 Sono in tensione, scusate. Andre dietro. Segui l'altro prima. Quale altro, scusami? Ma non posso passare. L'altro cavo devo tornare tutto indietro. Oh, cazzo. Non posso toglierlo di nuovo. Spero di trovarlo prima che la gallina di merda mi pigli. Metà alla via, è un altro cavo. Non lo so, non lo so. Il problema è vero. No, non lo so. Non cazzo. Era lì, com'era lì? Giacomo grazie per i tre, poi la pilo, com'era lì? Ragazzi dove cazzo io? Devo completare il puzzle, eh, con la gallina di merda è complicato completare il puzzle però E' complicato con la gallina di merda completare il puzzle, eh, il computer, ho capito, è lì Mi sfuggono un attimo le meccaniche conseguenziali, mi sfugge perché lei evidentemente si teletrasporta, allora andiamo con ordine, qui dobbiamo farla con calma perché Non ti può vedere se hai la maschera, non mi pare, non ti prendi quando hai la maschera, non mi pareva Non mi sembrava, non mi sembrava Quanto meno salva in pezzi Quanto meno ti salva i passaggi almeno, grazie al cielo Allora, rocci 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 E di qua Sono tratto di riuscire a beccare Dici che me l'ha salvato? Dici che me l'ha salvato? Togli la maschera Potevo? Non mi sembrava neanche di potere Non mi sembrava di potere Potevo? Ho sbagliato io? Ho stronzeggiato malissimo? Allora ho stronzeggiato io Ah, ho stronzeggiato male, scusate Non mi era sembrato di vedere ancora il tasto di blocco Non mi era sembrato di... di potere Lo fa! Ma no, lo fa! Ah no! Beh Dopo che finivi potrei ricorderla Dopo che finivi potrei toglierla Che cosa mi manca da fare adesso? Quale mi manca da cavare? Non li ho fatti tutti Sì, devo tornare al lodo principale Ehh Cazzo sta vedendo Non li ho fatti tutti Non li ho fatti tutti Ehh Posso rimetterglielo? Posso rimettergli il music box A quella puttana maledetta Tanto ho salvato perché ho hackerato Tutto lo sbatto che ci siamo presi ieri per farlo Ci siamo presi uno sbatto Ci siamo presi uno sbatto Che glielo rimettiamo sicuro Mezz'ora ieri a cercare di cosare Devo capire dov'è ragazzi Adesso dovete Attento un attimo Devo capire un scuolo dove è andata Mettigli all'incuolo Usare buona idea Si è barcato delle persone che sia qua Forse non è qua Qual è il bagno? Ah è qua Eh sì Eh è schifo abbastanza Mi ha droppato qualcosa? Noi l'abbiamo riparata Spero che serva qualcosa Ma a quello sarà servito Non ho idea È plausibile Probabile Secondo me È plausibile Probabile Secondo me Che a fine gioco Ma non lo sono sicuro Ma a fine gioco Quel coniglio di merda Ti mandi contro gli animatronics Se tu hai riparato Un animatronics Forse non ti attacca In quanto ti considera Suo amico E quindi riparando Gli animatronics Magari L'ultimo livello È meno difficile O forse C'è un finale diverso Se li ripari tutti C'è un finale diverso Se ne ripari qualcuno Ha un finale diverso Vai a sapere Non ho idea Magari Se dovevo riparare anche Monti Non l'ho fatto Però Vai la porta Che ho bloccato Non l'ho 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 bloccato La porta dove c'era L'una da dove O sono io Che sono completamente Obbligato Non ho aperto Questa porta qui Ma non posso Non posso indossare la maschera Mi sta mettendo un po' di ansia Sarò sincero Ma Non ho senti nulla Non ho senti nulla Non ho senti nulla Non ho senti nulla Ma spero che non ci sono tardi oh no di nuovo non è bello che ci parli no 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 nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon e perché tu non sai No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chi è? È Roxy Bar Spero che con la maschera non mi veda Non mi veda, non ha gli occhi e cazzo veda Non mi veda, non mi veda Sfonda la porta Brava Roxy sfondatrice di porte Il problema è che ogni volta che lo dico Penso che il mio cane Mi sia confuso visto che si chiama anche Il mio cane Roxy Eh vai Andra un attimo Grigori You can't hide forever She hasn't found him yet I better find him first You can't hide I can't hide forever Vai dove c'è la freccia Sì l'ho visto Il problema è che c'è anche Roxy Questa è la freccia A me però ti conosco in due frecce Credo, credo, credo Mi ha sentito Mi ha sentito Mi ha sentito È magica È magica Sì il problema è che è magica Cioè mi ha preso Ma non l'ho tolta io Me l'ha tolta lui Non hai capito Me l'ha tolta lei Non l'ho tolta io Non hai capito Devi usare quel computer Adesso credo di aver Ha sentito il tuo culo tremare Sì sì Abbostanza Grigori Tanto mi piace Perché Un inciatto Si Si Ci ha visto Voleva un po' Un biscottino Voleva solo un biscottino Per quello Jagu Non 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 C'è Il Tu Give up! You can't win! I'm here, but you can't see me! I found you! Over here! I've always had a little bit of a tituban, as I can't see, I can't see my c***** That c***** maniaco that's what I'm talking about How am I talking about this? It's magic, too! Where is she going? Where is she going? Dio cane bastonato! C*****! C*****! Alla forno! I'm c***** in mano! C***** sono ecco... Madonna scarlato! Cazzo di paura! Let go! Let go! Mi ha eliminato! Quanto meno non ce l'ha con me, hai convinto a chi... Gregory! I'm in Roxy Racers! Say something! I can hear you! Can you hear me? Yes! I can! What happened here? It looks like the whole place fell in! Something tunnel down! Broke everything! And now I'm stuck here! I really think I need to go get help! Or call the police! What? How is that supposed to help? There's no time! Fine! Ma che cazzo ma... Il tasto ESC che si è scassato! Am I even close? Where are you? This place is huge! Down there! Single under the raceway! Under the raceway... Help me! How do I get down there? L'area è in lockdown di sicurezza! Se vuoi salvare il tuo mito dovete scrivere il resto dei nodi di sicurezza del Bondi Brawl e del Fazer Blast! Sì, è probabile che sia lì il Mimic o quello che... Key Cube... Cioè è sicuro che è uno che sta facendo finta di essere lui! Cioè è garantito al limone che non è Gregory neanche a morire! Cioè... Non è Gregory neanche per il cazzo! Cioè neanche col buco del culo è Gregory! Ma mai nella vita! Cioè... Bello! Bello il pupazzone! Bello! Ti prego, puoi non farmi venire un colpo? Il punto è... Quale stronzo troverò qua? Chi è che manca? In teoria manca Freddy... Che paura! Freddy io non ho idea di come sia messo in teoria perché non so nemmeno se è ostile o no al momento! E poi se... Forse c'è Bonnie, non lo so! Forse c'è Bonnie! Mi sento che in qualche misura o maniera ci sia Bonnie o abbiano implementato Bonnie per qualcosa! Non lo so! Vai! Però magari non è vero! Magari è solamente un mio sentore o una mia... Come si dice? Una mia idea! Commissi... E' un'altra cosa! Che cosa è? Che cosa è? Non lo so! E' un'altra cosa! io quelli me li ricordo io quelli me li ricordo non erano particolarmente simpatici ah così? proprio diretto così proprio diretto così proprio cattivissimi e praticamente sto giocando ad Australia Simulator praticamente siamo nei ragni di australiani medi eh sì ho visto infatti il computer li attireremo lontani col computer non è che vedo molte e quattro possibilità è un bambettino è un bambettino grazie mille dice ma dillo vediamo se riesco a ritirarli via ah stanno andando di qua io li sparò di qua spero che questa cosa sia giusta che cosa sono queste cose? li guardano il DJ ok scusa ce ne rima tutte scusa ce ne rima tutte è sicuro eh saltano eh saltano eh saltano eh eh a quanto pare ho sottovalutato la loro capacità di movimento saltano anche questi pezzi di merda va bene lì va fatta bene che io sia una bambina perché se io ero io avevo già cominciato a dare cazzotti a destra a sinistra chiamali più volte ah beh 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 non è che vedo molta possibilità eh te lo dico anche perché se rimangono lì mi rompono i figli Gregorio 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 sei qui? Gregorio Gregorio io spero che siano tutti spero spero siano tutti eh lo so che abbiamo capito ma qua bisogna fare in modo quello è ancora vivo ad esempio qua ad esempio è lì il problema è che sti cosi non vi cagano no no torniamo ai dare i fili dove merda devo andare Gregory, are you there? Gregory, are you there? Gregory, are you there? Ah, non giù, 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 sempre più giù. Gregory, are you there? Gregorio! There is a thunder. Any second now. Any second. Any second now. Any second. Thunder! Any second. Oh, Christ. E io come faccio a spostarmi? Mi vedo? Oh, Cristo! Oh, Cristo! Oh, Cristo! Dio, trombascio, che paura! Scusa, è un uomo. Era dove li avevo messi io, quegli stronzi di merda. No, non mi sembravano lì. Stavolta mi son cagato in mano. Stavolta mi son cagato in mano. Devi camminare stealth, eh, sti cazzi, cioè... Gregory, are you there? Vediamo se mi ha salvato almeno il primo nodo, così da capire se devo rifarlo oppure no, perché se mi salva di nodo in nodo è tanta roba. E ci sono più gruppi, ho capito, ma... Ma tu sei pazzo? Ma tu sei veramente pazzo? Ma tu sei pazzo? Questo è il problema. Non posso lasciarli lì. Devo fare il nodo. Come faccio a lasciare lì con il nodo? Stai, stai lì. Stai fermo. Stai, stai fermo. Sì, ma... Cazzo, mi ha fatto il culo. Ah, stanno andando... Ah, ok. Stanno andando ovviamente. Ma che carini il cazzo. L'unici carini sono tutti i morti, cioè... YouTube il titolo sarà Gregory. Are you there? Gregory, are you there? Gregory, are you there? Il titolo sarà Gregorio. Il titolo sarà Gregorio. Sei qua? E' bulla. Grazie mille per il sub. Bentornato tra noi, ma per l'armate. Io qua per ancora una volta vi ricordo di fare la sub che con Prime è gratuita. Se no, costa solo 4 ore al mese. Schippate tutte le pubblicità. Avete tutte le mie voti. Mi viene da più intelligenti. Mi si aggiunga il cazzo. Non c'è un'ora. Non c'è un'ora. Mi viene il fisico per un frutto. Gregory, are you there? Che cazzo di giro dell'occa mi stai facendo? Come la faccio? Stellina, abonati. C'è Stellina, abonati sotto al canale. Fai sub. Ah, no, ma che cazzo c'è la musica. Ah, Gregory, are you there? Infatti, io sento la musica particolarmente spinta. Gregorio, ti trovi in questa locazione? Gregorio, Gregorio, amore. Sei qui, tu sono? Che cazzo è? Quello mi sa che mi escego. Non posso mettere la maschera. Ma scusa. Eh, ma non posso capire che cazzo devo... Eh, ma scusa, come faccio a capire che cazzo devo disattivare se non mi fai mettere la maschera? Questo è un problema, perché se non mi fai mettere la maschera... Aiuto. Non posso dire che c'è una telecamera, ragazzi? Sto capito. No 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 nonna ngo ng 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 Nononono no 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 Oh! Eccolo il cilindro di merda! Eccolo il cilindro di merda! Sono nel punto sbagliato, allora devo spostarli perché è Gregorio e io devo andare lì! Gregory! Gregory! Are you there? No! No! Pensavo di avere una via secondaria di passaggio! Oh no! Ah! No! No! No, no, no... Gregory, are you there? Ce li avevo proprio dietro... Puffarbacco... Devo trovare il cilindro di nuovo... Amore... Che non c'è... Direi che continuiamo domenica, papere, che l'orario c'è... Papere, io vi ringrazio questa sera per i follow, i cheerle sub, il divertimento, le risate... Noi ci vediamo dopodobedi, domenica alle 21 per una nuova live... Io vi auguro tanta buona Anna Padatini, vi mando un abbraccio e un bacione... Ci vediamo dopo domani, notte ma vera e buon weekend! Ciao, ciao! Grazie a tutti